Di nuovo assieme in seconda parte con la rassegna stampa sportiva, siamo sui quotidiani nazionali e andiamo con la Gazzetta dello Sport che celebra la ripresa della stagione della Juventus. Viene il bello, scrive la Gaza, tante novità al Via Nellerassarri, la missione non è solo vincere ma divertire e imporre uno stile con CR7 e Dybala. E poi le altre notizie, c'è la questione del nuovo stadio di San Siro, un piano da 1,2 miliardi, Inter e Milan sull'impianto del futuro potrebbe essere pronto. Nel 2023 i club presentano il progetto dell'area stadio, ora il confronto con il comune Annuncio Cairo, Alessandra per il debutto dell'Eurotoro tra calcio e palinsesti TV. Poi l'Atalanta e la Champions al Meazza, si attende ancora che il Milan sciolga le riserve per far giocare gli orobici proprio a San Siro, la sua Champions League. Hamilton talento, no tanto lavoro come Schumi, l'intervista della Gaza e poi Super Sagan, volata show oggi si sale, Nibali si scalda. Tornando invece al calcio mercato, assalto a Lukaku, primo appuntamento ufficiale tra il Manchester e i Nerazzurri per la punta, blitz in Inghilterra, l'Inter accelera per l'ok United. E poi la stretta James De Laurentiis telefona a Florentino Perez con Real Madrid, si cerca l'accordo sul pagamento. All'interno della gazzetta troviamo anche il punto dedicato all'Udinese con il post conferenza stampa di Mr. Tudor. Andiamo a riprendere proprio il pezzo con Tudor che dice sicuro basta, anzi arriva Toccoz il tecnico ma gli obiettivi restano legati alla rosa, cambierà modulo passando alla difesa 4 e cui ieri ha fatto il suo ingresso l'ultimo acquisto a Rodrigo Becao ma soprattutto non vorrà più un Udinese sulle spine questi propositi di Igor Tudor in conferenza stampa. Allora andiamo ad ascoltare proprio il passaggio sul cambio di modulo dell'allenatore bianconero. Se parliamo di tattico io vi posso dire che c'è una idea di non partire con 3-5-2, di non partire, di cambiare qualcosa e questo già abbiamo parlato con la società di cambiare questa cosa qua che era un marchio di ultimi anni no? E poi vediamo perché poi per cambiare anche bisogna avere gente un po' con caratteristiche diverse no? Se giochi con... se giochi 3-5-2 è giusto che c'hai 4 punte, invece se giochi qualcosa diverso non ti servono 4-4 punte nella rosa. Bisogna avere anche caratteristiche di gente che può giocare un po' diverso. Allora abbiamo parlato con società di ultimo mese e due di questa cosa qua e ora lavoriamo insieme di questa cosa. Io già in allenamento ieri ho iniziato un po' di provare queste cose perché a me mi piace mettere subito anche lavoro tattico lavorando quasi tutti i giorni non solo di aspetto fisico ma anche di lavoro tattico e così via e sarà tutto l'anno ecco. Quelle parole di Mr. Tudor sulla idea di cambio modulo. Andiamo sul Corriere dello Sport. In apertura a DL le mie mosse dell'Aurentis, James, Rodrigo, Icardi, Aurelio Svela il mercato del Napoli e poi i flash sui singoli giocatori. James è il giocatore più mediatico dopo Ronaldo e Messi vuole venire da noi però il Real chiede troppo. Rodrigo ci piace moltissimo ma preferisce rimanere in spiaggia. Ehi Massa è prima, bisogna vedere. Icardi è un talento, gestito male, sembra più vecchio dei suoi 26 anni. Non lo cambio con Insigne. Skriniar, Inter, ora si può. Il difensore slovacco stiamo lavorando per battere la Juve con Conte. Mentalità vincente, il mio sogno, la Champions. Il più applaudito, Higuain, la Juve di Sarri parte oggi con una sorpresa. I tifosi chiedono di non cedere il Pipita. Pallotta è sicuro di portarlo a Roma e nella Roma. C'è il piano Adelweidel, Petracchi frena su Mancini, Baldini in campo nella trattativa con il Tottenham per il centrale del Belgio. Centrocampo spunta il nome di Almendra. Federer 100 vittorie nel Tempio di Wimbledon. Super Roger batter Nishikori sul record di successi. Semifinale show contro Nadal avanza anche Diokovic. Mondiali nuoto stanotte il via alle 4 in Corea. Le prime gare che vedranno anche gli italiani protagonisti. Andiamo ora sul tutto sport. L'apertura scossa Higuain. Il Pipita accolto con grande affetto a raduno della Juve. Tifosi lo acclamano, resta con noi. L'argentino per ora si allena con Sarri e respinge ogni proposta, ma è sul mercato. L'obiettivo bianco-nero è Icardi. Toro, 2.000 posti in più, si prova per l'eurodebuto ad Alessandra. Oggi il test con la bormiese Cairo rinforzi. Si arrivano. De Ligt che Inter-Juve, intervista esclusiva a De Vrij. Mattias è un caro amico, un ragazzo intelligente, un giocatore fortissimo, Marotta e Conte sanno come arrivare in alto. Ausilio, il blitz in Inghilterra. Per chiudere l'affare Lukaku, l'Atalanta, quando Bergamo fu casa a Milan, il caso Champions a San Siro. Gli orobici che fanno notare di aver già prestato lo stadio proprio in favore dei rossoneri, ora attendono il loro sì. Sampdoria, Ferrero, Lascia, Vialli è vicino, imminente l'accessione del club. Queste le notizie. In prima pagina sul tutto sport. Torniamo ai quotidiani di casa nostra con il messaggero Veneto e il punto sui bianconeri dopo le parole in conferenza stampa di Etudor. Ci concentreremo tra poco anche con altri spunti arrivati dalla stessa conferenza stampa. Prima andiamo a dare un'occhiata alla situazione del traffico in città. Vediamo il buongiorno a Gloria Delle Bianco dalla sala operativa della Polizia Locale di Udine. Buongiorno a voi. Non ci sono segnalazioni di rilievo da fare. Il traffico in città è particolarmente scorrevole su tutte le arterie. Non ci sono segnalazioni di rilievo, come ripeto. Benissimo. Allora rimangono naturalmente i cantieri con le chiusure di via Quileia e via Mercato Vecchio. Sul transito invece lungo le altre arterie, nessun problema di sorta. Grazie a Gloria Delle Bianco dalla sala operativa della Polizia Locale di Udine. Torniamo sui quotidiani. Torniamo, dicevamo, a parlare di Udinese, del suo futuro dettato da Mr. Tudor. A carte scoperte si cambia modulo. Giocherà con la difesa a quattro. La prima uscita dell'allenatore bianconero. C'è l'idea di non partire col 3-5-2. Sul mercato tutti i tecnici adesso vi diranno che servono altri due pezzi forti. Iaialo lo volevo già all'Aiduc anni fa. Becao invece ci aiuterà a impostare il gioco. Nel frattempo sono state ufficializzate altre due amichevoli in questo ritiro precampionato con l'Al-Hilal e il Besiktas. Nel primo caso si giocherà il 24 luglio all'Industadium di Fillac e poi con orario alle ore 18. Mentre per quanto riguarda la sfida contro i turchi del Besiktas venerdì 2 agosto alle 19 al Goldberg Stadium di Gröding prima del rientro a Udine della squadra. A proposito invece della presentazione e dell'ufficializzazione di Becao andiamo a vedere nel servizio di Maurizio Ferrari dunque questa novità che andrà a rinforzare la difesa bianconera. Cinque anni di contratto e credenziali di primo ordine per la retroguardia dell'Udinese. Si presenta così Rodrigo Becao nella sua giornata di debutto da calciatore friulano con la firma e la conoscenza delle strutture della Dacia Arena. Il difensore classe 1996 completato l'iter delle visite mediche è diventato a tutti gli effetti un elemento della rosa di Igor Tudor che ne ha tessuto le lodi in conferenza stampa. È un giocatore che ci è piaciuto, bravo con un piede che permette di giocare addietro però anche una buona fisicità, buona corsa anche una buona mentalità. Una statura imponente, fisico asciutto e grande corsa unita ad una buona qualità di impostazione lo rendono un tassello chiave per chiudere la batteria dei difensori e così il brasiliano prelevato dal Bahia ed ex CSKA Mosca con cui ha già tastato con mano il calcio europeo e la Champions League è subito sceso in campo al Bruseschi. Un primo riscaldamento con i compagni poi via alle esercitazioni con e senza palla dal torello ai possessi fino alla partitella di chiusura dei lavori Becao ha completato tutta la seduta iniziando il percorso di integrazione con la truppa bianconera. Per testarlo concretamente nei nuovi schemi del tecnico croato ci saranno le amichevoli precampionato dopo quella di alto prestigio contro il Borussia Dortmund sono ufficiali altri due impegni di livello nel calendario estivo in terra austriaca. Mercoledì 24 luglio l'Udinese tornerà ad incrociarsi con la formazione saudita dell'Al-I-Lal alle 18 a Fillac appuntamento al 2 agosto alle 19 a Grödig invece per il test match contro i turchi del Besiktas. A proposito di Turchia andiamo a fare il punto mercato attraverso il messaggero Veneto si attende Toccoz il turco nel frattempo Pozzo pensa a Paduin dopo aver perso Berami e Alfredson nelle voci di mercato con Pierpaolo Marino che spiega Becao un giocatore di gran temperamento un difensore moderno con ottima tecnica e abilità nella fase aerea per le sue caratteristiche sarà sicuramente adatto a un campionato come la Serie A poi ci sono appunto i ragionamenti sul turco Toccoz mancherebbe davvero pochissimo per poter dire che è tutto fatto 10 milioni di euro al Besiktas con il centrocampista della Turchia che deve solo sciogliere le ultime riserve legate all'ingaggio poi appunto sul nome del friulano Simone Paduin da Gemona svincolato dal Caglia rivestirebbe volentieri la maglia dell'Udinese resta solo da capire come potrebbe essere impiegato nel nuovo modulo di Igor Tudor dal messaggero ci spostiamo sulle pagine sportive del Gazzettino sempre per parlare dei bianconeri con il punto relativo proprio al futuro della squadra con le novità che vorrebbe apportare al modulo Tudor Ripuglia al 3-5-2 faremo calcio propositivo questo è il titolo del Gazzettino l'allenatore croato ha annunciato la svolta tecnica dobbiamo segnare di più 37 reti non bastano Balice e Iaialo saranno al centro del nuovo progetto l'ora del riscatto seguirò Barak già dalle prime gare e a proposito di questi nomi Balice, Iaialo, Barak il mister in conferenza stampa ha voluto fare proprio un flash per raccontare che cosa si aspetta da questi giocatori c'è una cosa che allenatori non piace e che è una cosa che ti dà dei problemi di lavoro come mi avete già chiesto prima e che il mercato è aperto fino al primo settembre che è una roba che a nessun allenatore piace perché ti lavori con una squadra inizi il campionato poi in due settimane si cambia cioè io ancora non capisco questa regola che non si cambia perché va contro tutti i sensi però bisogna adattarsi e sperare che l'ultimo giorno di mercato come tutti i allenatori che ti hai lavorato due mesi poi cambiando due o tre giocatori devi adattarti di nuovo e sono praticamente quasi buttati questo lavoro a tutti i allenatori sembrano due pezzi forti ancora allora anche a me questa è anche la battuta di Tudor sul calcio mercato dicevamo di Becao che arriva e firma per cinque anni questi termini degli accordi con il direttore tecnico Marino l'avete visto anche nelle immagini spiega è un difensore tecnico molto ricco di temperamento adesso Molla Vaguè può andare al Nant sul mercato l'obiettivo è puntato sul gemonese Padoini come abbiamo visto anche sul messaggero Veneto per quanto riguarda poi Molla Vaguè dicevamo per una cifra pari a un milione e mezzo di euro il difensore rientrerà dalla Coppa d'Africa e firmerà con il club francese si punta ancora sempre secondo il gazzettino su Tokoz con il Besiktas che sembra aver convinto di cedere alla corte sfrenata dell'Udinese che sono al terreno per l'ingaggio dello svincolato gemonese Simone Padoin affascinato dall'ipotesi bianconera anche il gazzettino racconta delle nuove amichevoli fissate quelle oltre al Borussia Dortmund per quanto riguarda proprio la preparazione estiva con il Dortmund lo ricordiamo sabato 27 luglio ad Altac poi con il 24 luglio si gioca all'Industadium di Villach contro l'Al-Hilal e poi il 2 agosto col Goldberg Stadium di Gröring come ci diceva anche ieri Guido Gomirato durante pomeriggio calcio c'è anche l'ipotesi di avere una prima amichevole in terra frulana prima della partenza per l'Austria chiudiamo il capitolo udinese apriamo quello pordenone perché ieri c'è stata la presentazione ufficiale anche del nuovo portiere nero-verde si tratta di Di Grigorio che arriva dall'Inter e poi si punta su Gaetano l'estro di Napoli piace il giovane fantasista partenopeo mentre in arrivo il difensore camporese il portiere arrivato dai nerazzurri spiega è un gradino importante da salire De Agostini nel frattempo carica l'ambiente e torna anche Migliorini il riassunto della giornata nero-verde e a proposito di De Agostini ieri era presente alla Dacia Arena a lanciare la campagna abbonamenti nero-verde in accoppiata con quella dell'Udinese ascoltiamolo sarà sicuramente un'emozione unica giocare in questo impianto l'emozione è tanta ormai si ricomincia non vediamo l'ora di ricominciare il fatto che siamo rimasti quasi tutti i ragazzi della passata stagione è sicuramente un motivo di orgoglio da parte di tutti noi diciamo che vengo a giocare in casa dato che abito a 10 km da qua dipenderà credo molto da noi giocatori avvicinare tanto la gente soprattutto di Udine e dintorni e anche portarli da Pordenone perché comunque la strada non è corta i numeri li lasciamo lì noi speriamo di avere un grande seguito e sono convinto che ce la faremo si inizia a far sul serio infatti domani inizieremo già con i test non vediamo l'ora di cominciare ti ripeto perché comunque sarà una stagione storica per il Pordenone e vogliamo concludere nei migliori dei modi anche se siamo solo all'inizio il mister è molto carico anche se non l'abbiamo ancora visto ma immagino che lo sia come lo siamo tutti quanti dal presidente a penso al magazziniere beh io da Buon Friulano invito veramente tutti i friulani di Pordenone, Udine e dintorni perché comunque questo è un impianto meraviglioso io sono entrato per la prima volta oggi e devo dire che mi è venuta la pelle d'oca avere l'opportunità di vedere una partita ogni weekend è veramente fantastico e quindi vi invito tutti quanti a venire a sottoscrivere l'abbonamento sia per l'udinese che per il Pordenone perché così diamo un segnale anche di forza della nostra regione e questo è il messaggio lanciato dalla DEA andiamo sulle pagine del Messaggero Veneto per continuare a parlare dei neroverdi ecco di Grigorio il possibile erede di Andanovic ingaggiato in prestito dall'Inter il portiere classe 97 che ha già grande esperienza di C in cui i nerozzurri credono molto questa esperienza mi arricchirà finalmente sarò in B imparerò da Bindi che rimane il numero uno dei neroverdi DE Agostini lo avete sentito allo stadio Friuli chiama i tifosi bianconeri con cittadini sosteneteci per la campagna abbonamenti congiunta affiancato ad Agostini ieri c'era anche il presidente Lovisa le ultime sul mercato scrive il messaggero via Cometti arriva Migliorini per l'attacco piace Gaetano con la notizia appunto di questo attaccante classe 2000 dalla primavera del Napoli per ora si tratta solo però di un interessamento continuiamo a parlare di sport anche col basket perché ieri in città si sono presentati gli europei under 16 GSA i sogni di gloria sorgono davvero a est questo per quanto riguarda la squadra della città chiuse le iscrizioni il 16 sarà ufficializzato il girone ma si può dire che non ci saranno mostri come Fortitudo e Treviso dicevamo invece la presentazione dei campionati europei di basket under 16 vedete qua le immagini in conferenza stampa c'era anche Gregor Fucca che guida di Azzurrini nel Salone del Popolo presentato l'evento con il presentatore dell'evento che è Davide Michalic è l'organizzatore che ha lanciato dunque questo importante appuntamento sportivo l'antipasto sarà il torneo Melilla per la volata agli europei under 16 allora andiamo ad ascoltare proprio Davide Michalic in conferenza stampa una grande estate di palacanestro abbiamo 5 nazionali in ritiro per Udine quindi gli alberghi sono ramandolo ma non solo che è casa Italia tutti pieni 5 nazionali e noi non siamo in montagna o in una località magari dove c'è aria buona la città Udine si vengono qua perché stanno bene le nazionali ci danno fiducia perché hanno le condizioni ideali per prepararsi poi abbiamo il torneo dell'amicizia riservato ai nazionali del 15 in questo weekend domenica si parte la Carnera Francia Italia Grecia Spagna grande Kermes poi dopo il grande appuntamento sarà dal 9-17 agosto con il torneo con il campionato europeo under 16 maschile con le 16 nazionali più forti d'Europa veramente il trampolino di lancio per il campione del futuro capace di raccogliere una marea di persone alberghi già sold out una tradizione che si rinnova penso che siamo partiti nel 2014 con il primo evento questo è il quinto europeo e in mezzo abbiamo fatto un mondiale poi avremo anche un torneo di preparazione per questi ragazzi a fine luglio al Carnera tutto sempre rigorosamente free io non voglio fare il biglietto d'ingresso perché voglio che la gente possa godere di questo grande sport di questo grande spettacolo e fare in modo che il nostro territorio esca una volta di più vincitore non solo Udine però sarà coinvolta anche Pazian di Pra sì ci piace come tradizione magari coinvolgere a spot abbiamo fatto altre realtà nel 2014 ricordo non avendo il Carnera trasformavamo la Indoro in un palazzo dello sport poi siamo andati a Lignano siamo andati a Cividale quest'anno abbiamo usato il Palacus quest'anno abbiamo deciso che era l'ora di Pazian di Prato abbiamo trovato un'accoglienza clamorosa da parte dell'amministrazione e delle autorità sportive locali di Pazian è vicino al Carnera il palazzetto è bellissimo credo che sarà un bignone perfetto uno potrà passare dal Carnera alla Pazian per vederci tutte le partite senza perderci proprio nulla ancora un'estate da gustare ma già si guarda alla prossima ai fini degli obiettivi e anche dei desideri quello che ci lega poi c'è un grande ritorno economico per il territorio a livello proprio di alberghi di attività commerciali tutto vero c'è un grande ritorno di immagine però quello che ci spinge perché Udine entra veramente al centro dell'Europa però poi quello che ci spinge a noi è la passione e l'amore per il territorio questo è un binomio che per noi ahimè è un binomio perfetto che ci spinge ogni estate a immolarci al basket e fare in modo che poi questi eventi siano al trampolino per una grande stagione di basket di Serie A con la nostra squadra e non è un caso credo se poi il Palazzo Carnera è sempre pieno ogni domenica credo che sia stato fatto un lavoro lungo un lavoro certosino ma alla fine poi la gente dalle nostre parti sa riconoscere questa cosa e si è appassionata col cuore come piace a me dal basket torniamo al calcio ma quello giovanile perché continua l'avventura in Canada della rappresentativa del Friuli Venezia Giulia Under 17 non si ferma in semifinale un altro successo dei ragazzi che mettono sotto anche il Whitby così avranno la possibilità di giocare per vincere la International Soccer Cup una competizione che per la prima volta vede protagonista proprio la nostra rappresentativa e ancora i motori con i motori accesi per il rally Valli di Carnia che fa il pieno di equipaggi regionali saranno 68 al via nel fine settimana tra Ampezzo e la Val Tagliamento il ciclismo invece con il giro rosa che arriva in Friuli Venezia Giulia Van Vleuten prepara la grande festa nella crono di ieri è inflitto 53 secondi alla Van der Breggen e 1,48 alla Longo Borghini sarà difficile per l'avversario strappare la maglia nelle ultime tappe in regione oggi arrivo in salita nel Vicentino poi le tre frazioni in Friuli che chiuderanno la gara per quanto riguarda invece il tiro a volo Chiara Cainero fuori dalla finale il mondiale resta un tabù e poi il volley ora la Russia per i sogni d'oro di Beatrice Molinaro stiamo parlando delle universiadi per quanto riguarda lo sport è tutto ci fermiamo qui ma vi ricordiamo gli appuntamenti di giornata su di News TV l'informazione che ritorna alle 11 alle 12 alle 16 e alle 19 oltre che il riepilogo con i fatti di giornata alle 22.30 ma per lo sport da non perdere come al solito i collegamenti in diretta già dal mattino per continuare a raccontarvi il ritiro bianconero alle 17.30 l'appuntamento proprio con pomeriggio calcio speciale ritiro in prima serata invece questa sera con Massimo Campazzo l'appuntamento di Rivediamoli nel racconto le puntate più belle dei cicli storici che raccontano la nostra regione ed ora come al solito ci congediamo con la rubrica di Guido Gomirato accade oggi buona giornata a tutti l'11 luglio 1985 nasce ad Atene Orestis Carnesis portiere dell'Udinese dal 2014 al 2017 e in questo periodo ha collezionato 113 gare di campionato Carnesis è cresciuto nell'osti di Creta poi passato nel Panathinaikos di Atene ma in questa formazione doveva scalare una montagna per trovare il posto nel senso che il titolare era giocatore pressoché inamovibile il titolare era un giocatore che poi passerà al Palermo senza però lasciare il segno questo portiere è Zorvas per cui con la cessione di Zorvas al Palermo Carnesis ha finalmente via libera e lui ne approfitta fa un importante salto di qualità diventa uno dei migliori estremi difensore del campionato ellenico viene anche convocato in nazionale nel 2013 l'Udinese lo adocchia lo acquista lo presta al Granada e con la formazione andalusa nell'aprile del 2014 è protagonista di una ottima grandissima portita contro il Barcellona ferma tutti i tentativi di segnare da parte del Barça anche Messi deve inchinarsi di fronte alle prodezze del portiere del Granada Carnesis quindi viene a Udine e l'allenatore che era Stramaccioni deve decidere se far partire titolare Carnesis oppure Scuffette opta per il Greco e la soluzione si rivelerà quella più appropriata Carnesis nell'Udinese si dimostrerà portiere di assoluto affidamento se vogliamo fare una classifica di merito per quanto riguarda gli estremi difensori che hanno indossato la maglia dell'Udinese in prima posizione colloco Andanovic poi subito dopo Romano De Santis e Tursi ma al quinto posto indico proprio Carnesis il quale nel 2017 passa al Watford ma fa il dodicesimo perché il titolare è Gomez quindi la storia diventa presente proprio un anno fa di questi tempi l'Udinese lo cede al Napoli nell'ambito dell'operazione che porta in terra partenopea l'altro portiere Alex Meret Carnesis vanta anche 49 presenze a difesa della nazionale ellenica l'udinese l'udinese dell'udinese